Stiamo combattendo contro una forza invisibile che ci allontana dai nostri dojo, ma non è riuscita a separarci dalla nostra passione. Abbiamo unito tradizione e tecnologia, muovendo i nostri allenamenti in un dojo virtuale. Abbiamo scoperto che i valori appresi negli anni di allenamento ci consentono di continuare ad allenarci con lo stesso impegno, ritrovando compagni che a causa delle distanze non praticavano più con noi. Oggi il gruppo continua a crescere, superando i 150 praticanti, che a tutte le lezioni si connettono da ogni parte del mondo. Al prossimo episodio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!